Il Festival del Cinema Latinoamericano di Trieste è un appuntamento di rilevo nazionale, unico nel suo genere. La 32esima edizione andrà in scena al Teatro Miela dal 18 al 26 novembre, con un ricco programma presentato oggi in Galleria Tergesteo. Una novantina i film che saranno proiettati a partire dal 21 novembre. Oltre al concorso vero e proprio, non mancheranno come sempre eventi speciali, sezioni tematiche e retrospettive, come spiega il direttore del Festival. No, il Festival credo che ha il merito di riscattare la memoria da una parte e dall'altra di riproporre le produzioni recenti, sia fiction sia documentari. Sicuramente le cose più importanti fuori dai film in competizione, nelle due sezioni competitive, sono gli eventi speciali, i film su Bolagno, su Piazzola, su Berta Cassere, la novel del premio Goldman, assassinata nel 2016 in Honduras, e al film sui diritti umani, i crimini dell'esumanità, prodotto dall'Università di Grenoble. Sicuramente sono importanti una serie di documentari che raccontano il continente. E la chicca sarà sicuramente quel film che racconta Los Angeles senza messicani. Un tema, questo, di grande attualità, considerate le politiche del presidente Trump sugli immigrati. Una giornata negli Stati Uniti senza messicani, in un film documentario che rappresenterà solo una delle chicche del Festival di quest'anno.